Non solo la benzina, luce, grazie, benzina, mangiare, troppo, è tutto raro, tutto, tutto. Lei sta facendo rifornimento su delle taniche? Sì, 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 per i mezzi di cantiere diciamo. Anche lì c'è un costo notevole da mettere in coro? Sì, 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 assolutamente sì. Anche gli automobilisti pratesi da ieri sono alle prese con il rincaro dei carburanti. I prezzi alle pompe sono schizzati all'insù per effetto dell'eliminazione del taglio delle accise che era in vigore dal marzo scorso. La misura, varata dal governo Draghi e finora confermata anche dal governo Meloni, si è esaurita il 31 dicembre scorso, quando è venuto meno lo sconto statale di circa 18 centesimi su benzina e gasolio. Così, se fino a pochi giorni fa si poteva trovare qualche distributore di benzina con prezzi al di sotto di 1,60 euro al litro, adesso i prezzi sono schizzati attorno ad 1,80 euro al litro con un aumento che supera il 10%. E quanta benzina ha messo? Adesso faccio il pieno perché faccio il lavoro e giro molto e quindi purtroppo faccio il pieno. Infatti sono arrivata qui, ho visto il costo e ho detto oddio, è il primo gennaio. Per lavoro bisogna andare a giro con la macchina, quindi niente, si paga e basta. I più previdenti hanno fatto il pieno sabato 31 dicembre, hanno risparmiato qualcosa perché ancora era in vigore il taglio sulle accise. Qui al distributore Conad si sono verificate lunghe code, c'è anche chi non è riuscito a fare rifornimento. Sono passato di qua, però non mi sono nemmeno fermato. Ce l'avevo anche un po' di gasolio, quindi mi sembrava fare una cuda così, mi sembrava un po' troppo. Non solo carburante, con il nuovo anno sono aumentate anche le tariffe autostradali sulle arterie di competenze di autostrade per l'Italia. Da ieri i pedaggi costano il 2% in più, con l'aggiunta di un ulteriore più 1,34% dal prossimo luglio. L'aumento non riguarderà i tratti brevi, Prato Est-Firenze-Ovest continuerà a costare 70 centesimi, così come invariata è la tariffa cittadina di Prato Est-Prato-Ovest, mentre tratte leggermente più lunghe sconteranno l'arrotondamento. Gli aumenti si possono toccare con mano, ad esempio, per la tratta da Prato Est-Scandicci oppure per quanto riguarda la 11 fino a Chiesina Uzzanese, dove fino al 31 dicembre scorso si pagavano 2,20 euro per andare dal casello di Prato-Ovest a Chiesina Uzzanese e dove invece stamani per lo stesso tragitto occorre sborsare 2,30 euro.